2 punti per Giusto Lisi 3 punti per Giusto Lisi 2 punti per Schina 3 punti per Schina 2 punti per Giusto Lisi 2 punti per Giusto Lisi 3 punti per Giusto Lisi 3 punti per Giusto Lisi 3 punti per Giusto Lisi 2 punti per Giusto Lisi 2 punti per Giusto Lisi 3 punti per Giusto Lisi Realizza il primo, Gaudio, un punto. Due su due. 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 Per Trieste esce il numero 22, giusto l'Easy, rientra il numero 7, Kovacic. Ripla per il numero 14, Pitteri. Per Trieste esce il primo, Gaudio, un punto. 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 Gaudio, un punto, Gaudio, un punto. Gaudio, un punto, Gaudio, un punto, Gaudio, un punto. Il primo, Gaudio, un punto, Gaudio, un punto. Gaudio, un punto, Gaudio, un punto. Gaudio, un punto, Gaudio, un punto. Gaudio, un punto. Gaudio, un punto. Gaudio, un punto. Il primo, Il primo, Gaudio, un punto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Time out chiesto dall'Azzurra Trieste. In campo il nostro cuotino del sponsor CS Sport Saterpiedi a mare. Grazie a tutti. 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 Due punti per Kovacic. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.